allora sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda la potatura estiva del bonsai soprattutto anche la coltivazione scusate un sacco di domande per quanto riguarda la questione internodi quindi quanto deve essere lo spazio tra una foglia e l'altra quando quando la pianta farramono molti dicono all'interno è troppo lungo la pianta è rovinata oggi vi spiego tutto i miei discepoli ovviamente vi spiego anche come si fa le cose veramente vi spiego come dovete ragionare per evitare seghe mentali e già che ci sono andiamo a vedere questa foglia qua perché molti hanno foglie come questa come questa quindi foglie rovinate inizia inizia l'ansia inizia la paura ok guardate uno e guardate e due e spiego come è successo vi spiego come mai vi spiego tutto però intanto inizio a fare una potatura perché sennò il video dura 50 anni anzi andiamo a vedere la pianta a 360 gradi così vi faccio vedere il risultato ovviamente perché io sono l'unico che fa dei risultati di quanto riguarda la mia coltivazione i miei prodotti pericolosi ok questo carpino lo conoscete per chi mi segue c'è una pianta che ce l'ho non so da quando sto costruendo da zero che grazie le mie manine e quindi per tutti quelli che dicono ma no ammazzi la pianta ciao 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 tra la la come ve la faccio rivedere per chi non ha capito pianta tuta verde non ha una foglia gialla quindi a prova di ogni di ogni stupido che dice no non va bene quindi l'obiettivo della stagione adesso è continuare mamma mia che che cazzo sta facendo continuare su questa strada ovvero far maturare potare far raddoppiare di nuovo perché adesso arriva il bello ok quindi l'estate autunno inverno poco conta sulla pianta funziona possiamo potare senza seghe mentali vi faccio vedere una cosa ok questo è un ramo che va tagliato ok eravamo prima di essere potato deve maturare quindi quando lo toccate deve essere abbastanza duro non dico che deve essere proprio legno però 1 2 3 4 5 6 7 8 foglie deve aver fatto anche o anche 9 10 quando toccate le foglie devono essere spesse rugose ok se no continuate a mettere mano perché qualcuno ve lo dice però non avete la pianta pronta ed è brutta cosa per quanto riguarda quello che ho fatto vedere quelle due foglie che sono rovinate allora ovviamente non ci bisogna andare in ansia quando vedete una foglia rovinato due foglie rovinate quello è il risultato delle vespe e dei bruchi vespe più che altro secondo me ce ne sono tante in giro non ci si fa un cazzo ok quindi per quelli che dicono come devo fare non devi fare niente bisogna fare altre foglie cioè quando la pianta è così abbiamo 10 foglie rovinate la pianta non se ne accorge neanche no quindi non c'è bisogno di andare a studiarsi chissà quale manovra perché tanto non ha nessun senso logico ok quindi se vedete che la vostra che il vostro bonsai ha come faccio la potatura cioè se vedete che il vostro bonsai inizia a rovinare qualche foglia ma vedete che c'è un'esplosione tale di verde totale ma state tranquilli cioè non date veramente retta a quelli che vi mettono l'ansia addosso no perché adesso devi devi comprare ma cosa dovete comprare dovete comprare la pianta ok e i prodotti basta poi resto è tutto in automatico come vedete problemi io non ne ho mai tra l'altro una qualità del genere di verde non ce l'ho da nessuna parte cioè non la vedo da nessuna parte nessun altro video nessun altro canale boh poi per carità c'è sempre qualche scemo che magari modifica modifica con photoshop le cose per carità il mio verde che vedete come vedete non c'è color correction io sono così sono così bello la pianta è così anche lei ok una cosa fondamentale per quanto riguarda gli internodi visto che vi ho promesso un video riguardo ragazzi io posso capire che alcune persone ce l'hanno con sta storia che l'interno deve essere di mezzo millimetro cioè tra una foglia e l'altra deve essere attaccata no perché tutto deve essere miniaturizzato preciso e per carità è un discorso che può valer la pena ad essere affrontato quando abbiamo delle piante che sono finite che sono da portare in mostra ci può stare no però prima cosa le piante quando sono nella fase di vegetazione ragazzi potete fare tutti i calcoli che volete ma loro faranno assolutamente quel cazzo che gli pare diciamo le cose come stanno quindi l'obiettivo è portarle sempre di più a vegetare e di fare sempre di più rami che poi possiamo andare a selezionare da dove viene la questione internodo no tutte quelle persone che non hanno capito una cosa fondamentale che che tanto la pianta va potata quindi se vi fa un ramo lungo così o un ramo che da qui va fino alla statale o che da qui arriva fino in finlandia e che c'è gli internodi che sono a 10 metri l'uno ma il problema non esiste perché tanto come vedete ad esempio sto ramo qua io taglio se ne va tutto e il primo internodo che c'è i primi due sono così perché sono quelli che stanno attaccati alla partenza del ramo quindi parte e poi allunga sempre di più quindi la seconda terza quarta porzione della pianta che va poi a sfogare ad allungare il resto quindi per quanto riguarda la coltivazione e sta storia qui ragazzi non ha assolutamente nessun senso nessun significato perché poi vedete risultati sulle piante cioè quando questa pianta perderà tutte le foglie secondo voi sarà rovinata o sarà una bomba esagerata come tutti gli anni come vedete le mie piante i miei bonsai non ce n'è uno che è rovinato perché molti fan terrorismo la verità è che qui nessuno sta facendo quello che faccio io ok tutto qua io sono bonsaista lo faccio di mestiere e sinceramente mi sono anche un po spaccato i maroni di sentire tutte queste stronzate perché sono anni che si sentono e sono anni che io qua sto dominando la scena su youtube ok quindi il mio canale è assolutamente punto di riferimento per quanto riguarda la coltivazione del bonsai in italia quindi piantatela con queste teorie perché tanto vi troverete sempre più in difficoltà a ragionare in questo modo perché non troverete mai la soluzione ai vostri problemi perché perché il problema non esiste semplicemente ve lo state inventando e ve lo state anche coltivando alla grande ok quindi concimate a bomba senza pietà perché l'obiettivo è rinforzare la pianta quando la pianta fa tanti rami siete sulla buona strada perché significa che la pianta sta bene ed è felice ok il resto sono tutte stronzate senza senso no quindi consiglio che vi do per quanto riguarda l'estate smettete di ragionare come ragionano tutti che l'estate è un periodo difficile per la pianta che andrà in stasi perché allora non si farà niente smettetela cioè se la pianta sta bene continuerà a vegetare e quindi non ci saranno assolutamente problemi per quanto riguarda la stasi o varie storie varie storielle teorie pratiche intriganti che cazzo ne so quindi se la pianta funziona si continua col solito schema ovvero si va ad accorciare tutti i rami lunghi quindi si fanno sfogare si fanno allungare poi quando sono pronti possiamo no tagliare senza problemi che sia estate che sia autunno l'importante è lavorare sui rami che sono maturi perché tanto se sono maturi problemi non ce ne sono farà altre gemme da dietro se è in forza ve le apre pure e ve le matura pure se invece non ne può più il ramo sarà già pronto per il prossimo anno nulla scarta nulla la pianta non va in sofferenza e il concime anche durante l'estate va dato perché la pianta ovviamente deve mangiare intervalli regolari ogni 15 giorni perché se no ragazzi quello che dico sempre se rimane senza cibo a un certo punto si ferma e vi dice quindi che si fa continuiamo a far finta di mangiare oppure si incomincia a mangiare voi ragazzi quando andate al ristorante cosa fate andate lì guardate il menù e basta oppure dopo il menù poi volete anche riempire la pancia poche pugnette no che sia estate che sia inverno quindi come vedete io adesso continuo a fare la mia bella potatura quest'anno sta pianta ho deciso di non fare una defogliazione totale l'anno scorso l'ho fatta quest'anno ho deciso di lasciarla un po stare lascio stare relativamente perché come vedete si continua cioè vado avanti anche anche parecchio anzi senza manovre super invasive vi renderete conto che poi il bonsai è in grado di buttare fuori ancora ancora per carità con la defogliazione totale e c'è il video corso sul sito guardatevelo con quella totale è bello perché quando la fate poi c'è una ripartenza che come quella primaverile però lì la pianta molto spesso dal tutto per tutto perché poi si trova in difficoltà deve ripartire da zero e quindi magari c'è il rischio di avere uno scarico poi veloce di energia e quindi non riesce poi a vegetare di nuovo come prima ok quindi da tutto e poi magari finita lì però matura è raddoppiato se invece lavoriamo bene andiamo a bilanciare magari non abbiamo una risposta pesante ok su tutto però la pianta continua a maturare buttare fuori maturare buttare fuori andiamo avanti in maniera sfalsata e quindi va benissimo anche così anzi secondo me è la strategia che vi porta dei risultati più sicuri ok perché andate sempre lavorare su quei rami comunque sia hanno bisogno di essere tagliati e soprattutto possiamo fare defogliazioni parziali a non finire perché tanto si tratta semplicemente di andare a bilanciare il vigore e andare anche a buttare più luce dentro la pianta quindi andiamo a liberare lo spazio per quanto riguarda defogliazione parziale visto ormai ci siamo parliamo anche di questo ragazzi fatela soltanto se la pianta è come questa cioè deve essere una bomba di verde perché se no andate solo a togliere energia no alla vegetazione quindi più verde ha e più la pianta fa fotosintesi cioè non ci vuole un libro di di botanica per capire l'abc cioè semplicemente la pianta prende luce delle foglie poi dopo beve magna e continua ad andare avanti ma se voi togliete che ne so 50 per cento di foglie a un certo punto la pianta lavora 50 per cento ok i rami che sono in alto ragazzi potete tranquillamente accorciare la seconda foglia se c'è bisogno anche alla prima cioè se tanto dovete rientrare e vedete che ci sono gemme dietro che sono pronte per uscire ma tagliate senza problemi sotto invece dovete sempre guardare bene quanto tener lungo il ramo perché se no c'è il rischio che va in sofferenza quindi senza contare far la conta di gemme quelle cazzatine che avete visto fino adesso in giro guardate sempre e ragionate con la testa perché ovviamente rami che sono che sono in basso se andate a tagliare la seconda gemma la prima non rimane più niente che rimangono due foglie che stanno sotto e poi dopo la pianta ve li va anche a scartare perché perdono proprio forza perché manca la luce e poi essendo che la pianta ha dominanza apicale ovviamente succede che poi scarta tutto sotto in questa pianta avevo fatto una defogliazione parziale ho fatto una riduzione del fogliame proprio avevo tagliato a metà tutte quelle foglie che erano molto grandi per fare entrare la luce dentro come vedete come risultato ho avuto una ripartenza e come risultato ho avuto soprattutto che non ho avuto nessun ramo che è andato a perdersi quindi se pulite bene la pianta quando lavorate riuscite a mantenere anche tutti quei rami che sono più interni quindi fondamentale andare sempre ad aprire tutta la vegetazione dentro per fare entrare le luce quindi se potete anzi non se potete se c'è bisogno pulite ogni quanto fa la defogliazione parziale tutte le volte che c'è bisogno tutte le volte che vedete che la pianta un pallone a quel punto bisogna intervenire perché sennò se non entra luce la pianta ingiallisce e scarte i rami soprattutto quelli fini soprattutto quelli molto dentro ok cioè guardate spercata non si vedrà però anche dentro se si vede anche dentro non mi ha scartato niente non c'è un ramo che è andato in sofferenza quindi se si usa la testa ragazzi e se ve lo smettete di guardare il pelo nell'uovo tutte quelle cose la pianta vegeta butta fuori e mantiene tutti i rami così l'anno prossimo ho fatto il salto di di quali te ok comunque se cercate sempre di fare una potatura e lasciare due foglie per ogni per ogni butto ok questo perché per così la pianta quando ributta fuori nuova vegetazione la va a dividere per due ok quindi mi farà due butti da uno e quindi ne farà più corti con più qualità con l'interno d'ho anche più corto con le foglie anche più piccole perché proprio da un ramo poi va a dividere in due e quando questo giochino lo fate su tutta la pianta di continuo negli anni a un certo punto vi ritroverete una pianta che bilancia sempre di più la vegetazione mi raccomando ricordate sempre che chi si ferma con le concimazioni oppure chi che inizia a dare meno acqua alla pianta ragazzi avrà sempre dei problemi cioè sarete sempre perduti sempre persi sempre a cosa è successo cosa sta facendo cosa non sta facendo quando trovate il giusto la giusta via di coltivazione dovete ripetere all'infinito quella lì cioè come in tutte le cose cioè se le case si fanno in un modo si continua a farlo in quel modo lì non è che da domani cambia tutto le facciamo con la merda di mucca invece che usare il cemento cioè poi per carità nuove tecnologie ci sta però nella costruzione delle piante ragazzi la minestra è sempre quella come vedete i miei video sono ripetitivi per un motivo perché io devo portare i miei discepoli ad avere poi la sicurezza e il risultato finale su tutto quello che fanno su tutte le loro piante quindi le piante si trattano tutte allo stesso modo con cima bomba e si va a potare quando i rami sono forti punto quando fatta la potatura ragazzi se avete dei dubbi su qualche ramo non tagliate semplicemente ok poi quando passa una settimana dieci giorni vedete che il ramo effettivamente sta bene ed è pronto potete intervenire tranquillamente in un secondo momento cioè non fatevi prendere sempre dal testa croce cioè che partite oddio devo farlo adesso per forza una rondine non fa primavera quindi potete tranquillamente fare le cose con calma anche nel secondo momento anche un mese dopo volendo allora siamo in chiusura però mi fermo così ho fatto una bella potatura andiamo a vedere intanto il risultato a 360 gradi non si capisce più qual è il fronte allora per quelli che rompono sempre i maroni perché hanno un pallone di verde ragazzi così funziona il bonsai che quando ok questo è il fronte quando sono in movimento poi tra l'altro questa è una pianta che devo un pochettino ruotare così ok almeno così mi sembra da video quando siamo in questa fase della stagione non potete pretendere che la pianta sia bella ok quindi c'è il momento per la definizione il momento invece per fare ingrassare il materiale proprio come nel bodybuilding allora ho fatto una potatura ho tagliato a metà qualche foglia vedete come cadono per fare entrare sempre un pochettino di luce in questa zona qua che comunque sta riempiendo tanto pianta sta da dio e fotonica stratosferica questo non la vendo per chi me la chiede almeno per il momento non la vendo se vi interessa preparate il rene poi il pancreas e il fegato e così possiamo un pochettino iniziare a ragionarci andiamo a vedere 360 gradi matura bella che è pronta da così sembrerebbe un bonsai finito poi invece quando è spoglio magari c'è un pochettino da perfezionare un po sta zona qua perché ok bella verra adesso perché poi quando c'è quando sono le foglie si gonfia tanto il volume ok però invece quando poi si spoglia si vede veramente bene dove c'è bisogno di fare avevo finito il cazzo dove c'era bisogno di fare qualche regolazione per fare vegetale ancora meglio detto questo questo mese video corso gratis sul mio sito claudio bonsai.com se volete imparare a fare qualcosa gratis ok ve lo prendete e fate un ordine e vi beccate il video direttamente sulla vostra mail se volete imparare a far bonsai continuate a seguire i miei video claudio bonsai.com per tutto il materiale che vi serve per coltivare in sicurezza in velocità mi raccomando se no state lì così a a perderli su dei ciclamini siamo nel prossimo video mettete mi piace condividete e non rompete i coglioni non se ne può più claudio bonsai.com qui c'è il mio numero qui di sotto se dovete se avete bisogno d'aiuto se non sapete cosa comprare ovviamente io non sono vostra sorella quindi non scrivetemi di notte o non scrivetemi di continuo per delle stronzate ok adesso do una piccola pulita per finire totalmente ci vediamo nel prossimo video ok ciao a tutti ciao a tutti